Il direttore del quotidiano Il Giornale, Alessandro Sallussi, ieri a Chieti per presentare la versione di Giorgia, un libro intervista con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, edito da Rizzoli, 267 pagine, nelle quali viene tracciato un quadro approfondito dai temi più attuali della politica italiana ed europea, analizzati da Giorgia Meloni, intervistata da Sallussi nei momenti più quotidiani ed informali di una premier. La versione di Giorgia è una versione autentica, perché questo è anche il motivo per cui è nato il libro. Giorgia Meloni viene sempre raccontata, la sua visione viene sempre raccontata o col pregiudizio e l'ostilità degli avversari politici e mediatici o anche, bisogna ammettere, con la compiacenza degli amici politici e mediatici. Ecco, Giorgia Meloni non è nell'uno, nell'altro. Giorgia Meloni è quella cosa lì che ha raccontato nel libro. L'incontro è stato organizzato da Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni regionali. La richiesta dei Fratelli d'Italia di avere una rappresentanza a queste elezioni proporzionale al suo attuale posizionamento elettorale e c'è l'altrettanto legittima richiesta dei soci di governo di confermare i governatori uscenti dei loro partiti di Lega e di Forza Italia qualora questi governatori si siano dimostrati all'altezza. Sono due interessi entrambi legittimi. Io credo che il compito di trovare la sintesi sia in capo a Giorgia Meloni che, oltre che presidente del Consiglio, è capo della coalizione. I capi hanno oneri e onore. L'unica cosa che io non mi auguro è che ci sia uno scivolone. Credo che la sfida sia importante, la sfida sia affascinante. Come tutte le sfide noi la correremo con il dovere e con l'impegno a vincere, a far risultare nuovamente Fratelli d'Italia primo partito e credo che Fratelli d'Italia sarà il motore di questo centrodestra essendo stato per tanti anni l'onesto e fedele ruotino di scorta. Oggi siamo protagonisti e oggi dobbiamo non avere paura di questa responsabilità, di questo impegno ma portare avanti il nostro lavoro fino in fondo.